Ciao a tutti ragazzi, io sono Adele e io sono Sara e benvenuti sul canale Senza Glutine Junior. Oggi è un video, diciamo, mobile perché siamo in macchina che stiamo andando a Palermo a mangiare a McDonald's e poi dopo dobbiamo fare un'altra cosa che vi svelerò dopo. Sara, tu sei contenta che andiamo a Palermo? Sì, non ci sono mai andata. Mio papà lavora lì. Ma tu ci sei andata qualche volta? Sì. Vabbè, comunque, ci vediamo quando saremo i magic show. Ragazzi, arrivati al centro commerciale al McDonald's e Sara ha preso il suo gluten-free burger. Apriamolo. Apriolo. Olè, eccolo qua. Miam, miam. Fatto ad aprire il panino è stato un'impresa perché era caldissimo, però molto buono. Vero Sara? Sì. Forza, dai. Mangiamolo. Mangiona. È rimasto del panino, o meglio, quello che non è rimasto. Questo pigmento bellissimo, dal P.M.I.L.E. E poi vi sveliamo la sorpresa. Infatti siamo venuti qui al centro commerciale per incontrare la mia cantante preferita, la ragazza che ha partecipato ad Amici, Tish, che oggi sarà qua a Palermo per il film, copie del suo disco nuovo. Io sono super happy. Cosa possiamo fare? Ragazzi, siamo qui ad aspettare il tuo disco. Non potevo immaginare, sono in coda, mi faremo appena quantissimo. Non potevo immaginare, sono in coda, mi faremo appena quantissimo. Non potevo immaginare, sono in coda, mi faremo appena quantissimo. Sono in coda, mi faremo appena quין il tuo张so comodo di tutto. Non potevo immaginare, sono in coda, mi faremo appena quantissimo. Non potevo immaginare, sono in coda, mi faremo appena quantissimo. Non è isso? Non potevo immaginare, sono in dastanza-i gu bei un저 da unibaliamento. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti tornati a casa sono stanchissima ma è stato bellissimo e io ero super emozionata e super contenta super felice e niente siamo arrivati alla fine del video un bacione a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao